La Sfinge, mistero, enigma e fascino La Sfinge è una creatura mitologica affascinante che affonda le sue radici nell'antichità e continua a intrigare, e ispirare con il suo enigmatico sguardo. Nella mitologia greca, la Sfinge era rappresentata come un essere con il corpo di un leone, le ali di un uccello e il volto di una donna, posta di guardia di fronte a Tebe e impegnata a porre enigmi mortali a coloro che cercavano di attraversare la, sua strada. Uno dei racconti più celebri riguardanti La Sfinge è quello di Edipo, il quale riuscì a risolvere l'enigma della creatura, causandone la sua rovina. La Sfinge, confusa dalla sua saggezza, si gettò in mare e si concluse così il suo regno di terrore. Oltre alla sua presenza nella mitologia, la figura della Sfinge ha influenzato numerosi artisti, scrittori e cineasti nel corso dei secoli. La sua immagine enigmatica e inquietante è stata rappresentata in opere d'arte di vario genere, diventando un simbolo di mistero e saggezza. Curiosità e aneddoti circondano ancora la figura della Sfinge, alimentando il fascino per questo essere leggendario. La sua presenza nelle culture antiche e moderne continua a ispirare la nostra immaginazione a suscitare, domande senza risposta. In un mondo che spesso sembra privo di segreti, la figura della Sfinge ci ricorda che l'enigma e il mistero sono ancora presenti nella nostra esistenza, pronti a svelarsi solo a coloro che sono disposti a cercare la verità oltre le apparenze.